Vista l'indisponibilità che aveva dato il Presidente Mattarella per un secondo mandato, forse sarebbe stato meglio a livello politico non ricostringerlo a candidarsi. Visto che però non ce l'hanno fatta, penso che sia la persona migliore che potesse alla fine poi ricoprire questo ruolo, visto che nessun altro non lo uscì. Quindi grazie al Presidente Mattarella che ancora una volta, per l'amore delle istituzioni, ha consentito la sua rilezione. Ma una cosa inaspettata, però per come si erano messe le cose non ce le aspettavamo, però forse ora è la soluzione migliore. Sono incapaci i nostri politici di fare qualunque operazione che sia al di fuori di un contesto che li incateni, non so bene, litigano e quindi penso che pensano più agli affari d'oro che al resto della nazione. Mattarella va bene perché Mattarella ha dimostrato di essere un buon Presidente, è meglio così. Mattarella l'ha preannunciato, ha detto di non voler essere rieletto, purtroppo i partiti non sono in grado di trovare un uomo delle istituzioni su cui far convergere i loro interessi, gli interessi della nazione poi, del paese. Quindi io penso personalmente che si tratti di un Mattarella bis per qualche tempo, fino all'elezione del nuovo Parlamento e poi si è aperta la strada, probabilmente per un Draghi al Colle.